Ciao a tutti, sono Maria Mazzocchia e queste sono le notizie più importanti della settimana pubblicate su Ilmitte. Sciolta in Germania l'associazione estremista di destra Hartkemeinschaft. Mescolava paganesimo e teorie della razza di stampo nazista. Attivisti per il clima incollati all'asfalto. Arriva la sentenza a sorpresa. La polizia non potrà più chiedere loro di pagare le spese di rimozione. AFT perde un'elezione comunale in Turinja. Interrotti i successi dell'ultradestra nel Land. Giorgia Meloni scrive a Olaf Scholz esprimendo stupore per l'aiuto alle ONG. Il governo tedesco? Risponderemo. Jared Leto si è di nuovo arrampicato sulla facciata di un hotel a Berlino. Questa volta lo ha fatto in ciabatte. Sossegno finanziario per le imprenditrici a Berlino. Nasce il Grunderinnenbonus. Per il momento è tutto. Trovate questi e altri articoli fra le pagine del Mitte. Magazine online per italiani che guardano alla Germania.